tesoro vai tu l'austra ma chi è che fa che cazzo di rumore lì a che punto sei col caso scelto ho patteggiato hanno ucciso una bambina un po' di giustizia è meglio di niente devi dirlo al padre fai mona uno dei due in ogni caso la farebbe franca tutte le volte che parto ho patteggiato mi dispiace è così che funziona la giustizia dio por orco dio orco dio no madonna puttina qualcuno è riuscito a trasformare un'esecuzione in dolore in una specie di tortura hanno manomesso la macchina chi può essere stato guarda che roba la cola attacca le carte che guarda le si tacca con la cola e non le si stacca ma è una roba ha ucciso lei clans darby batte fangulo ho finito gaetano dio ha sempre sei vantaggi di lunghezza pronto faccia parlare ora voglio sapere esattamente come hai fatto se io trovo quello che mi ha fatto innervosire di okange da un pugno che spaccola te oppure andati in mona di okange come diavolo fa attraversa i muri ho trovato dei contratti pagati dal dipartimento della difesa con chi abbiamo a che fare una spia spia è ridottiva claide è una mente il migliore e se vi vuole morti siete morti blinderemo la città voglio un poliziotto a ogni angolo è in carcere perché è lì che vuole stare ha 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 dio gaetano le passa qua e le andà tu la devi smettere di che dipendi tanto i vantaggi grazie a tutti